Dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre si vota per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato. I marchigiani che si presenteranno alle urne potranno eleggere 10 deputati e 5 senatori della loro regione votando non solo le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, ma anche la ventina di movimenti, partiti e liste che compongono queste elezioni al Parlamento. Ecco i candidati che troverete nelle schede elettorali per quel che riguarda i collegi uninominali di Pesaro Urbino alla Camera e delle province di Pesaro Ancona al Senato, oltre agli annessi capolista dei listini proporzionali. Cominciamo dalla coalizione di centrosinistra che presenta Giordano Masini di Pio Europa all'uninominale alla Camera e Marco Bentivogli all'uninominale al Senato. Al plurinominale la coalizione si dirama col Partito Democratico che ha Irene Manzi capolista alla Camera e Alberto Lossacco al Senato, alleanza verde e sinistra con Luisa Serroni e Caterina Di Bitonto, impegno civico con Di Maio che schiera Patrizia Terzoni e Primo Di Nicola, Pio Europa con Mattia Morbidoni e Pierpaolo Loffreda. La coalizione di centrodestra all'assessore Mirco Carloni della Lega candidato all'uninominale alla Camera e Antonio De Poli della lista Noi Moderati al Senato. Al plurinominale la coalizione si dirama con Noi Moderati che presenta Giulia Marchionni capolista alla Camera e Tablino Campanelli al Senato, Forza Italia con capolista Valentina Vezzali e Jessica Marcozzi, Fratelli d'Italia con Lucia Albano alla Camera e Guido Castelli al Senato, La Lega con Riccardo Augusto Marchetti alla Camera e Mauro Lucentini al Senato. Il terzo polo di calenda presenta all'uninominale Federico Talè di Italia Viva e Elena Fabri di Azione, mentre al plurinominale Tommaso Fagioli di Azione e Fabio Urbinati di Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle si presenta all'uninominale con Rossella Cotto alla Camera e Samuela Melini al Senato. Al plurinominale i capolista sono Giorgio Fede e Roberto Cataldi. E ancora Unione Popolare con De Magistris che si presenta all'uninominale con Renzo Savelli alla Camera e Marco Bini al Senato e al plurinominale con Arianna Buda e Davide Fior del Mondo. Il Partito Comunista Italiano si presenta con Chiara Pizzorna all'uninominale alla Camera e Stefania Settimi al Senato. Al plurinominale capolista Roberta Coletta e Patrizia Serafini. Il Partito Vita presenta all'uninominale Alessio Canalini alla Camera e Marco Palanchi al Senato. Al plurinominale capolista Davide Barilari e Chiara Falcioni. Italia Sovrane Popolare propone all'uninominale Dali Borchvegic alla Camera e Paola Raponi al Senato, mentre al plurinominale Marco Rizzo e Fabio Pasquinelli. Italexit di Gianluigi Paragone all'uninominale avrà Stefano Puzzer alla Camera e Emanuele Amerli al Senato, mentre al plurinominale capolista Massimo Gianangeli e Enzo Palladino. Alternativa per l'Italia si candida all'uninominale con Lorena Narcisi alla Camera e Gabriele Cinti al Senato, al plurinominale capolista Fabio Sebastianelli e Cristiana Di Stefano. Grazie a tutti.